Ok, prendiamo la pasta vitaminica, il posto, e iniziamo, e iniziamo. Allora, la mattina il piccolo astro deve prendere tutte queste pilloline e la sera deve fare la punturina di GS. Allora, la mattina si fa la prima e si prende sono i fermenti lattici, florentero fasti. Ed è una. Ok, ora tra una pillolina e l'altra per fargliele scendere gli mettiamo un po' di vitamina Nutri Plus. Ecco qua, bravissimo, così gli scendono. E poi questa è acqua zuccherata. Dopodiché si prende l'antibiotico di Ronatzen. Ok, gli diamo un altro pochino di pasta così gli scende. Poi si prende la sili marina per il fegato. Sili marina. E questo è fatto col cardio mariano, il carciofo e aiuta il fegato. Poi si prende il sili forte, sempre per il fegato. Bravissimo. Vediamo sempre un pochettino di questa schifezza così gli scende. Poi si prende il carobin pet forte. Ok, questo è sempre un integratore alimentare per lo stomachino. Ok, bravissimo. Bravo. Dopo si prende l'epato che è sempre per il fegato. Ok, aspettate. Ok, apriamore a posto. Bravissimo. Gli diamo un altro pochino sempre di questa così scivola giù la pillolina. Ora gli diamo queste due compresse di Panacur. Ecco qua, è che bravissimo. Andà giù. Che c'è anche di base la giardia, oltre la FIP. Ecco qua, gli diamo l'ultima. E queste sono le, solo le, questa è la sua pinza che c'è all'elastico. E queste sono le sue pillole. Ora poi la sera riprende il flore intero. In più fa la puntura di GS e in più prende le vitamine di Omega. Vero? A posto. Ce l'abbiamo fatta. E poi la forza. Ecco qua. E poi la forza.